Sono stati salvati la notte tra l'11 e il 12 gennaio a largo delle coste della Libia, a Napoli, porto assegnato dalle autorità italiane. Ci sono arrivati questa mattina poco prima dell'alba, dopo tre giorni di navigazione su cui hanno influito le non ottimali condizioni meteo, i 37 migranti arrivati a bordo della Geobarens, l'imbarcazione della ONG Medici Senza Frontiere. Un solo minore non accompagnato tra i profughi provenienti per lo più da Siria e Bangladesh. Senza rilasciare comunicazioni ufficiali sull'arrivo della nave né sulle modalità di accoglienza, la Prefettura ha gestito le operazioni di attracco e l'organizzazione della rete sanitaria e sociale che coinvolge ASL e Protezione Civile della Regione Campania. Tenuti a distanza gli operatori dell'informazione, a differenza di quanto è avvenuto in caso di altri sbarchi dall'inizio dell'anno, si tratta del secondo sbarco in Campania, l'ultimo in ordine di tempo il 5 gennaio, l'arrivo a Salerno della nave ONG Open Arms, con 60 migranti a bordo, tra cui diversi minori non accompagnati. Nei giorni successivi all'arrivo dell'Open Arms erano stati arrestati anche due egiziani ritenuti gli scafisti dell'imbarcazione affondata a largo della Libia, che portava i 60 di Salerno.